Ricorda l'ospite di Fahrenheit che il dissenso è una costante della storia, che non è una categoria concettuale della politica e che è semmai uno spazio ospitale in cui alcuni dei principali concetti della politica si sono intersecati e incontrati, scontrati e avvicendati. Buon pomeriggio Diego Fusaro. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Diego Fusaro che insegna filosofia all'Università di San Raffaele di Milano e proprio a Milano si trova in questo momento nei nostri studi, ha scritto per Inaudi un pamphlet che si chiama Pensare altrimenti ed è dedicato al dissenso. La prima cosa che vorrei chiederle Diego Fusaro è che questa sembra essere quella che noi stiamo attraversando un'epoca di dissenso manifestato o comunque un'epoca in cui il dissenso viene espresso con molta facilità anche per una banale questione di avere a disposizione dei mezzi tecnologici o meno con cui farlo. Lei pensa che sia invece una categoria o uno spazio ospitale per così dire messa in pericolo e perché? Dunque, in effetti, ed è uno dei temi centrali nel mio lavoro, la nostra epoca pare potersi configurare come l'epoca dei dissensi plurali. Nel villaggio globale di cui siamo abitatori si assiste a un crepitio costante di voci che dissentono, che si oppongono, che protestano. E tuttavia, questa è la tesi portante del libro, queste voci dissenzienti oggi mancano puntualmente di un orizzonte unitario concettuale, di una coine, di una lingua comune, di una grammatica condivisa che li accorpi e li faccia essere una voce corale contro la grande contraddizione del nostro tempo. Perché in effetti tutti questi dissensi che oggi proliferano su tutto il giro d'orizzonte sono sempre rivolti ad aspetti che in qualche misura mai vanno a incidere veramente sulla contraddizione portante del nostro tempo. E tale contraddizione, che puntualmente resta innominata, si chiama capitalismo finanziario, o se preferite assolutismo dell'economia, monoteismo del mercato. Ebbene, oggi manca, come invece ancora viera ai tempi del marxismo, rimasto sepolto sotto le macele del muro di Berlino, manca una voce unificata della protesta. Manca un grande dissenso, come potremmo dire variando la formula di Marcuse, in grado di articolare un senso dell'opposizione e della contrarietà ragionata rispetto a questa sorgente dissenso ormai elevata a pensiero unico, che è il mercato, divinizzato in forme effettivamente quasi teologiche, l'epoca del cielo chiede il mercato. Ce lo chiede il mercato, però ecco, la cosa interessante che lei sottolinea, quasi subito, devo dire, nel suo libro, è che non è detto che il dissenso, diciamo così, verbale, si traduca poi in azioni conseguenti. A meno che non si vada a interpretare come azioni conseguenti una forma, come possiamo definirla, più tenue del dissenso, la disaffezione, in questo caso può riguardare molto i consumatori, per esempio. Certamente, il dissenso si dice, si pratica e si è praticato in modalità molteplici. Una di queste, ad esempio, è la disaffezione, quando ciascuno di noi, privatamente, come individuo singolo, rinuncia a compiere un gesto che si presuppone debba compiere o a cui semplicemente è inerzialmente abituato a dare il suo assenso. Pensiamo anche semplicemente a quando ciascuno di noi sceglie consapevolmente di non acquistare più una determinata marca perché connessa a pratiche nefande, ad esempio lo sfruttamento di bambini in altre parti del mondo. Perché poi una delle specificità della società di mercato è che la molteplicità delle marche a cui dà luogo delle merci che sfavillanti popolano il mercato sta alla contraddizione nel fatto che spesso le tracce di queste merci finiscono nel sangue in paesi eufemisticamente detti in via di sviluppo. Ecco, in questo senso vi è un primo dissenso debole e tuttavia che già sa far valere la propria opposizione ragionata che è quello della disaffezione perché il dissenso effettivamente ha questo di proprio che nasce dalla coscienza dell'individuo. E' un gesto che inizialmente non può che essere individuale, si ha il dissenso quando l'individuo nella propria coscienza, negli anfratti del proprio io individuale dice di no, revoca il proprio assenso a un ordine che si pretende giusto o che semplicemente si pretende tale da non poter essere altro rispetto a come concretamente è. Diego Fusaro, lei cita molto in questo saggio Guy Debord, devo dire che sono anni in cui la società dello spettacolo non può non tornare in mente quasi ogni giorno perché è abbastanza impressionante constatare poi come a diversi illustri di distanza Debord abbia tratteggiato con molta accortezza e acutezza un mondo dove ci troviamo immersi. Però ecco, lei dice una cosa che mi piacerebbe approfondire, in sostanza i dissenzienti, quelli che magari non traducono in azione diciamo così il proprio essere contro un potere, anche questo è un punto che mi piacerebbe affrontare con lei, sembra quasi che oggi in questa società dello spettacolo ormai attuata in pieno, forse addirittura oltre le previsioni di Debord vada addirittura a consolidare con il loro dissenso il potere che contrastano. Quindi è un meccanismo da cui non si esce? Dunque, che non se ne esca direi di no, anzi se non si potesse uscire dalla gabbia sarebbe addirittura inutile muovere forme di dissenso e di critica. Tuttavia bisogna prestare attenzione a non dar luogo a quelle forme di protesta reificata contro la reificazione, intendo dire quelle forme di protesta che in realtà finiscono segretamente e inconfessabilmente per rinsaldare l'ordine contro il quale si indirizzano. Penso ad esempio alle forme del dissenso individuale che non si traduce poi in gesti coerenti e che quindi finisce per produrre la figura che io chiamo dell'individuo solitario che avverte l'ingiustizia, l'intollerabilità della società in cui è proiettato e non di meno nulla fa per rovesciarne le geometrie o anche solo per riconfigurarne singoli aspetti. Direi in generale che la società dello spettacolo come totalitarismo pienamente realizzato, secondo un'intuizione che già fu di adorno, si caratterizza essenzialmente per essere il solo totalitarismo che riesce a compiersi. Laddove i precedenti, pur orribili e sanguinari dal nazismo allo stalinismo, furono totalitarismi non perfettamente compiuti, che davano luogo alla possibilità concreta e reale del gesto del dissenso, sempre pagato con la vita, sia chiaro, dai dissenzienti di turno. Oggi invece la società dello spettacolo in una forma totalitaria e glamour, levigata e insieme repressiva, la società che da sudditi ci trasforma in consumatori, riesce a ottenere un consenso morbido e tuttavia un consenso che rinsalda in maniera efficacissima questa struttura onnipervasiva della società dello spettacolo, la cui forza sta nel garantire anche permanentemente una critica che sempre in realtà rinsalda l'ordine dominante. Ecco, ci fermiamo su questo perché noi, come fare, ci siamo occupati molto spesso, anche alla fine dello scorso anno, durante la programmazione del nostro libro dell'anno, del dissenso represso. Cioè abbiamo parlato, per fare gli esempi che ci riguardano più da vicino, degli scrittori e delle scrittrici che sono in prigione in molti luoghi del mondo per aver espresso per l'appunto il proprio dissenso. E questa è una forma di repressione visibile, diciamo così, e fortemente violenta. Non meno violenta, lei sostiene nel libro, è la repressione apparentemente morbida in cui noi ci troviamo a nuotare o in cui rimaniamo impigliati. Lei dice, riguarda ancora una volta la merce. E io vorrei chiedere, Diego Fusaro, ma non ci stavamo liberando forse dal feticcio della merce, a meno di non parlare del feticcio della merce digitale, che è altra faccenda? Cioè non dovevamo esserne fuori? Credo che per pensare diversamente, o per pensare altrimenti, come dice il titolo del libro, occorra anzitutto rovesciare anche questo presupposto, quello secondo cui la prova della presenza di un ordine totalitario si dà dal fatto che vengono imprigionati e torturati i dissenzienti. L'ordine veramente totalitario è quello che non ha nemmeno più bisogno di imprigionare i dissenzienti. Il paradosso di una società che deve mandare a rogo Giordano Bruno o somministrare la cicuta a Socrate, sta nel fatto che è una società il cui totalitarismo, per così dire, è ancora debole, a tal punto da dover non poter accettare la dissidenza. La società totalmente realizzata nella sua forma del dominio è quella che può permettere forme di dissenso, le quali però restano puntualmente ineffettuali, inefficaci, prive di sbocchi pratici. Questo è lo scenario in cui ci troviamo oggi, per cui è bensì vero che in alcune parti del mondo vi sono ancora imprigionati dissenzienti a cui va tutta la nostra solidarietà. E tuttavia il problema dell'Occidente, della civiltà, delle merci e del consumo, sta nel fatto che essa impedisce in ogni modo il costituirsi del dissenso, opera andando a colonizzare le coscienze, sincronizzandole su scala planetaria con l'ordine costituito. Perché effettivamente uno degli aspetti caratterizzanti l'epoca schiusasi con il 1989 è il fatto che l'unico ordine globale impostosi, quello americano-centrico, a capitalismo avanzato, produce a propria immagine e somiglianza un ordine simbolico dominante, quello che viene chiamato pensiero unico, i cui codici il mio libro prova a forzare, a mettere a nudo, a demistificare. E poi ci arriviamo a alcuni di questi codici, Diego Fusaro. C'è un punto su cui mi piacerebbe soffermarmi ancora, anzi in realtà è un punto che ne include necessariamente un altro, quindi apparentemente io posso esprimere tutta la mia indignazione, la mia ribellione, che so, su un social network per esempio, ma quella mia ribellione, quella mia indignazione, per citare il nostro molto amato Ray Bradbury, che in Fahrenheit 451, ed era la metà del secolo scorso, diceva, crederanno di muoversi e saranno fermi, e saranno anche felici, peraltro. Quindi io, noi, siamo ingannati, diciamo, da questa apparente facilità di esprimere dissenso. Allora le chiedo, ma come si acquista allora la coscienza critica e come far sì che la coscienza critica si possa tradurre in azione? Dunque, anzitutto occorre, a mio giudizio, ed è la modesta proposta avanzata nelle pagine del libro, occorre, anzitutto, individuare qual è l'ordine simbolico dominante, cioè il pensiero unico come ordine giustificante e santificante i rapporti di forza nel capitalismo avanzato, perché il pensiero unico è quello rispetto al quale occorre far valere la critica e il dissenso, perché molto spesso dimentichiamo il fatto che l'ordine dominante oggi utilizza il dissenso per rinsaldare se stesso, è la figura che io chiamo del dissenso verso il dissenso, porto un unico esempio in proposito, quando si crea il dissenso verso paesi che si è preventivamente stabilito di bombardare in maniera poi da poterli bombardare impunemente, come fu il caso della Libia o dell'Iraq, rappresentano figure del dissenso verso il dissenso, cioè il dissenso va in realtà a rinforzare il pensiero unico. Ecco, da questo punto di vista... Il pacifismo, mi perdoni se la interrompo, perché c'è una frase che lei scrive a pagina 66, che è questa, come l'odierno pacifismo delle masse impotenti che sfilano salmodianti tra bandiere policrome, non è che l'introiezione del potere in un mondo in tessuto di violenza e aggressioni. Il pacifismo, nella lettura che ne prospetto io oggi, finisce per essere funzionale all'ordine simbolico dominante, nella misura in cui rappresenta appunto l'introiezione da parte dei dominati dell'ordine violento che determina il dominio da essi subito. Se il mondo fosse pacificato, intendiamoci la pace e il pacifismo sarebbero la cosa più splendida in assoluto, ma in un mondo in tessuto di violenza e segnatamente di violenze manumilitari, come si vedono in larga parte del mondo, o di violenza economica, pensiamo alla Grecia e a ciò che sta subendo oggi nel quadro dell'Unione Europea, subire la violenza pacificamente significa riconoscere il monopolio della violenza legittima ai dominanti. E quindi il pacifista non è soltanto, secondo questa sua interpretazione, Diego Fusaro, inutile ma addirittura nocivo? È nocivo come può esserlo colui che per strada viene aggredito e non reagisce, per riprendere un esempio che utilizzava Gunther Anders. Il pacifismo va bene, ma non bisogna utilizzarlo per legittimare in qualche modo l'aggressione subita. I coloro che vengono aggrediti nei paesi come l'Iraq, per fare un esempio solo, hanno tutto il sacrosanto diritto di resistere. La guerra di resistenza è l'unica guerra legittima, non esistono guerre giuste di aggressione. Coloro che vengono bombardati, aggrediti, hanno il sacrosanto diritto di difendere se stessi. Proprio come chiunque di noi per strada venisse aggredito avrebbe il diritto di difendersi. Lei affronta anche la questione del politicamente corretto, che è argomento molto dibattuto. Anche qui le due parole politicamente corretto spesso comprendono un ventaglio di espressioni anche lontane dall'intento originale con cui venne coniato questo termine. Quello che per esempio mi incuriosisce quando parla soprattutto degli intellettuali politicamente corretti che lei definisce come immersi nel sonno dogmatico. Ecco, c'è un punto in cui fornisce una serie di codici a questi intellettuali immersi nel sonno di cui sopra vanno in un certo senso a propagandare, vanno a reiterare a volte senza interrogarsi sul perché. Mi colpisce il punto 9 e lei mi permetterà se salto subito a questo. La religione olocaustica, lei la chiama così, che sostituisce il dovere della giusta memoria razionale del ricordo delle tragedie, è teso a evitare che si ripetano in futuro con un approccio religioso che utilizzando le vittime come pretesto ideologico e dunque uccidendole una seconda volta è finalizzato a colpevolizzare eternamente gli europei. Allora, è un concetto complesso, indubbiamente, quindi le chiederei di spiegarlo. Che cosa dobbiamo intendere per religione olocaustica? Dunque, inizierei specificando che si danno due modalità fondamentali della memoria. La memoria giusta è quella non ideologica, è quella che è inclusiva, mira a rendere giustizia a tutte le vittime delle tragedie da Auschwitz alle foibe, ai gulag, alle bombe atomiche con l'obiettivo appunto di ricordare coloro che hanno subito sulla loro carne viva gli orrori del Novecento o di secoli anche precedenti. E questa è una memoria giusta e sacrosanta, è la memoria pedagogica, come diceva Adorno, tesa a rendere giustizia alle vittime e a far sì che non si ripetano in futuro le tragedie. Mai più Auschwitz, diceva Adorno. C'è poi un secondo tipo di memoria, di tipo ideologico, e tuttavia in larga parte dominante nello scenario odierno, il cui fine non è quello di ricordare tutte le vittime, ma è quello invece di operare selettivamente. Ecco allora che ci si contrappone fra coloro che ricordano le foibe e non la Shoah e così via. Noi parleremo domani, proprio per evitare il discorso sulle contrapposizioni. Ed è una pura ideologia della memoria questa. Ma lei non pensa che sia già, mi perdoni, piuttosto superata questa concezione? Allora ci sono due livelli di discorso evidentemente, c'è il discorso così dove si reiterano anche dei luoghi comuni, ma ci sono stati anche in questi anni fior di saggi proprio su questo argomento, saggi che sono stati anche letti e diffusi, che mettevano proprio in crisi e in discussione il reiterare senza comprendere quello di cui si sta parlando. Sono pienamente d'accordo. Infatti la paroletta magica che anche lei evocava poc'anzi è religioso. Cioè il problema è che la memoria deve essere frutto di un'elaborazione razionale tesa a comprendere ciò che accadde, tesa a ricostruire storicamente le circostanze in cui si produssero quegli eventi sciagurati di cui dicevamo prima. Spesso invece subentra una forma religiosa che contrapponendo alla comprensione razionale le categorie ad alto tasso teologico come il bene o il male assolutizzate rendono di fatto incomprensibile la storia del passato e la trasformano in una sorta di metastorica e altamente religiosa lotta fra il bene e il male. E in questo modo, che ripeto, può essere benissimo utilizzato in ambito religioso non si comprende nulla tuttavia della storia reale. Ecco perché è così importante ritornare alla storia, ritornare a pensare storicamente. Ecco, pensare altrimenti oggi nel tempo della fine della storia, della naturalizzazione eternizzante dei rapporti di forza significa anche essenzialmente tornare a storicizzare la realtà in cui viviamo. E quindi acquistare la coscienza critica di cui si parlava anche poco fa. Diego Fusaro, c'è un punto obiettivamente su cui ragionare. Lei parla a un certo punto sia dell'omosessualità, sia di quella che definisce l'ideologia gender, ma forse si riferiva agli studi di genere, è come una ideologia globale. In qualche modo mi corregga naturalmente se ho frainteso che sono tesi a eliminare la famiglia e quindi a rendere uguali uomini e donne, cioè a creare un modello unisex. E quindi sia l'omosessualità, sia i femminismi, chiamiamolo così, si sarebbero altrettanto pericolosi della religione olocaustica di cui parlava poco fa oppure ho frainteso il suo pensiero? Temo l'abbia frainteso. Ma sono contenta di ricredermi. Perché la mia tesi è esattamente un'altra. Oggi vige un falso concetto di uguaglianza che più opportuno sarebbe chiamare indifferenziazione e livellamento. Vede, per garantire l'uguaglianza fra uomo e donna, o fra eterosessuale e omosessuale, cosa giusta, opportuna e sacrosanta, non bisogna praticare l'annullamento della differenza. Non bisogna annullare la differenza uomo e donna, producendo un individuo unisex. Bisogna invece riconoscere l'alterità ontologica e insieme riconoscere la paridignità di queste categorie. L'uguaglianza può avvenire solo fra realtà diverse, altrimenti si chiama indifferenziazione. Oggi prevale invece con questi studi di genere che io preferisco memore della critica marxiana dell'ideologia e chiamare ideologia gender, ben sapendo che ovviamente essi studi di gender, l'ideologia dice sempre di non esistere, come lei sa meglio di me. Basta aver letto Marx. Temo che in questo caso però non esista davvero, perché c'è un punto, mi perdoni se io sono insistente su questo punto, però laddove lei scrive, siamo a pagina 102, lei parla di omofobia in questo caso, leggo tutto il capitolo, il patrofo, a incorrere nella condanna di omofobia, sono anche quanti commettono in termini orwelliani il primo evocato psicoreato, consistente nel ritenere che esistono uomini e donne, che la famiglia non corrisponda a un concetto autoritario da cui prendere congedo, e che due siano i sessi, che si possano discutere razionalmente senza accettare, senza riserve, le nuove disposizioni sull'educazione di genere nelle scuole. E io mi permetto di farle umilmente osservare che però l'educazione di genere non è tesa a formare un modello unisex e non ha mai detto che gli uomini e le donne sono biologicamente uguali, ma semplicemente che devono esistere pari opportunità per entrambi. Sono due cose leggermente diverse. Ma questo è già garantito dalla nostra benemerite amata Costituzione. Purtroppo in atto è un altro scenario, che è quello che, promuovendo idealmente l'uguaglianza di uomo e donna, persegue questa uguaglianza annullando la differenza tra uomo e donna e quindi riprecipitando in quella che chiamavo l'ideologia dell'indifferenziato o dell'indistinto. Ricordiamo il fatto fondamentale testimoniato dagli scritti di Judith Butler, ad esempio, che è in valsa... Che è una studiosa fra molte. Una studiosa, sì, certamente. Fra molte. Distinguerei tra Simone de Beauvoir che diceva essere appunto la donna, donna biologicamente, ma poi culturalmente con tutto ciò che la cultura maschilista occidentale ha prodotto dalla distinzione invece che fa la Butler quando dice che bisogna decostruire l'idea stessa di sesso ciascuno. Questo è interessante, sa perché? Perché questa è la teoria di Butler, però la teoria di Butler non è mai stata quella che poi si presume di applicare o di rivendicare tanto meno nelle scuole. Questo è il grande nostro equivoco, però andando verso la fine della nostra conversazione... No, posso solo aggiungere un dettaglio perché sennò non si comprende questo passaggio sull'ideologia gender. Il passaggio è il seguente che oggi il capitalismo dominante sta neutralizzando non solo ogni anelito di classe, di riconoscimento di diritti sociali e del lavoro, quindi l'elemento Marx, ma sta distruggendo anche ogni elemento legato alla vecchia etica borghese centrata sulla famiglia, centrata sui diritti sociali della sfera pubblica, delle radici etiche e sulla potenza eticizzante dello Stato sovrano nazionale. Quindi la distruzione in atto della famiglia è fondamentale per produrre il nuovo profilo antropologico dell'individuo unisex, sradicato, senza radici, senza alcuna cultura, senza alcun radicamento nel proprio Stato sovrano nazionale dove godeva di diritti sociali fondamentali. Questo è il punto fondamentale. Lei crede che quella che lei chiama l'ideologia gender che io mi continuo a sostenere che non esiste naturalmente su questo legittimamente siamo su posizioni diverse. Diego Fusaro Nessun ideologo ha mai creduto che la sua fosse un'ideologia mi permetta di ricordare. Però ci sono le fonti a cui rivolgersi. Lei mi ha citato Butler e io le potrei dire che Butler appunto è una studiosa di gender ma una, una. Comunque ci fermiamo qui perché c'è un punto su cui mi piacerebbe invece intervenire. Lei parla orwellianamente dei famosi due minuti di odio e posso dire dell'importanza di riscoprire recuperare e rivalutare quello che possiamo chiamare odio di classe. Ecco questo è un discorso interessante perché noi siamo stati definiti veniamo definiti quasi quotidianamente la società dell'odio e che cosa intende citando i due minuti di odio di 1984? Intendo essenzialmente e in effetti Orwell uno degli autori più presenti nel mio saggio intendo essenzialmente dire che proprio come nella società totalmente amministrata di 1984 anche nella nostra capitalismo integrale disponiamo continuamente di valvole di sfogo ampiamente manipolate e controllate proprio come i due minuti d'odio momenti in cui si attiva l'ira collettiva organizzata pensiamo anche solo a quando compariva sui nostri schermi la figura del grande nemico pubblico Osama Bin Laden che quasi alla lettera ricalca il grande nemico presentato sugli schermi nella società del grande fratello essenzialmente oggi abbiamo momenti di conflitto di odio di rancore organizzato che vanno sempre solo per un verso a riguardare questioni secondarie rispetto al classismo capitalistico economico e in seconda battuta vanno puntualmente a frammentare la base dei dominati perché questo libro è costruito esattamente sulla convinzione che dopo il 1989 il conflitto di classe lungi dall'essersi estinto si sia riarticolato nella forma di un conflitto fra un'aristocrazia finanziaria post-borgese post-proletaria e un'immensa massa precarizzata data dal vecchio proletariato e dalla vecchia borghesia in fase di dissoluzione ecco i due minuti d'odio servono esattamente a beneficio dell'aristocrazia finanziaria a mantenere il conflitto nella base nella forma di una guerra tra poveri o tra servi che si contrappongono permanentemente fra possiamo dire così islamici e cristiani fra destri e sinistri fra fascisti antifascisti comunisti anticomunisti ultimamente anche tra omosessuali ed eterosessuali vegani e carnivori di modo che mai emerga la vera contrapposizione alto-basso servo-signore base-vertice cioè in modo che mai si ricomponga si riverticalizzi il conflitto che ad oggi resta proiettato nell'orizzontalità di uno scontro fra ultimi questo è un punto su cui il libro insiste molto quindi non c'è alcuna diciamo così alcuna esortazione alla violenza o all'odio ma il semplice riconoscimento che purtroppo la nostra società è intrisa di violenze e di odio di un odio radicale che la classe dominante prova ai danni della classe dominata di una violenza inaudita che la classe dominante in nome delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni della democrazia da esportare e della razionalizzazione del mondo sta producendo ai danni dei dominati è bene averne contezza per provare a pensare altrimenti e per provare ad agire altrimenti oltre quello che lei definisce il radicalismo del momento magico della giovinezza quindi conservando il dissenso e trasformandolo in pensiero critico grazie Diego Fusaro l'autore di pensare altrimenti pubblicato da Inaudi e ospite di fare buon pomeriggio a lei buon pomeriggio